La storia calcistica di Giulianova merita rispetto e non è accettabile sentire che c'è chi ha a cuore le sorti di Giulianova mentre a tutti gli altri non interessa nulla. Entra così a gamba tesa per restare in gergo calcistico il sindaco Francesco Mastromauro che stamani ha parlato davanti a stampa e rappresentanti della tifoseria organizzata giallorossa stigmatizzando le parole del presidente Antonio Esposito pronunciate all'indomani della scadenza dell'ultimatum con tanto di riconsegna al primo cittadino di titolo sportivo e quote. Per questo Mastromauro auspica le scuse da parte di Esposito. Allora rimettiamo nell'ambito, io sto parlando proprio a cuore aperto, parliamo seriamente però nessuno può dire che qua ci sta qualcuno a cui interessa e qualcuno a cui non frega. Questo io non lo posso sopportare perché non è vero e voi lo sapete. Allora se ci sta qualcuno che ha sbagliato in maniera educata, in maniera civile come noi siamo capaci, va bene? Allora ripartiamo dalle cose concrete. Nei prossimi giorni Mastromauro fisserà un incontro con il presidente Esposito per parlare del futuro del Giulianova l'importante, dice il primo cittadino, che non volino più gli stracci tra vecchia e nuova proprietà che devono risolvere nel loro ambito le questioni interne e gli accordi presi al momento della stipula dell'atto. A proposito di vecchia società, stamani è uscito allo scoperto anche Ferdinando Perletta che fa parte del precedente gruppo ma è tuttora amministratore delegato. Il Giulianova dice non prenderà penalizzazioni, alcune vertenze con i vecchi giocatori sono state chiuse, altre sono in via di definizione. Sì, sicuramente, questo è un patto che abbiamo fatto al momento della cessione della società e verrà rispettato perché il sottoscritto ha sempre rispettato tutto, anche con difficoltà negli ultimi tempi perché negli ultimi tempi purtroppo sono uscite delle cose anche a livello economico incredibili. I giocatori della Serie D, pregressi, con buona parte di loro avete già degli accordi di massima, un paio di situazioni sono quelle più spinose. Sì, quella di Broso e quella di Rinaldi, però speriamo di venire un accordo, Rinaldi aveva già firmato un preaccordo, ce l'ho io, che al momento dell'incasso della metà di quello che avanza ci firma la Liberatoria. Perletta spiega anche perché non ha ancora lasciato la carica di amministratore. C'è un fido in banca che bisogna aiutare, ma non per qualche problema, perché il direttore mi ha detto che adesso i garanti sono io e altri miei tre amici di Cologna che ci portiamo ancora di questa cosa. Al momento che io mi dimetto, lui vuole subito e rientro il giorno dopo. La BLS non aspetta, quindi sto vedendo di chiudere quella situazione con le mie forze e dopodiché sono pronto a dimettermi, anzi non vedo l'ora di farlo. Ci sono sulla tempistica dati certi che possiamo dare per questa transizione? Io mi ero ripromesso entro la fine dell'anno, spero di riuscirci, ho delle buone notizie, spero di riuscirci.